Dobbiamo cambiare le regole, le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta! E il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano, se no no fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese nasce uno, oriundo, mettiamo dentro, va oh! Ma nascerà più agli italiani nei campionati di Serie D e Serie C e dategli l'opportunità, vedete quelli come sono... Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia vincevamo, vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro, di Lega Pro!